Fornai in piazza, specialità gastronomiche, pranzo domenicale, ma anche musica, lezioni di cucina, solidarietà e tanto divertimento. Torna ad Alto Pascio la festa del pane, il tradizionale appuntamento che animerà il centro storico il prossimo weekend nei giorni di sabato 15 e domenica 16 settembre. La manifestazione è promossa dal Comune insieme alla Proloco di Spianate e Pan Italy, con la collaborazione dei comitati di Badia e Marginone, delle associazioni, dei commercianti e dei panifici del territorio, dell'associazione italiana Celiachia Toscana e del consorzio toscano PaneDop. Il clou della manifestazione di quest'anno saranno i forni in piazza, che vedranno all'opera i panificatori di Pan Italy, l'azienda che ha rilevato Toscana Pane, e daranno la possibilità ai visitatori di provare la magica esperienza del pane e della focaccia appena sfornati da assaggiare sul momento. Importante anche la parte di intrattenimento con l'attesissimo concerto di Riccardo Cioni DJ sabato 15 alle 22 in piazza Tripoli ad ingresso gratuito. E domenica tutti di nuovo in piazza per il pranzo preparato dai comitati di Spianate, Badia e Marginone. Confermata anche per quest'anno la finalità solidale dell'iniziativa. L'intero ricavato della vendita del pane e del pranzo, infatti, sarà devoluto alle realtà sociali e ai gruppi carita saltopascesi.